moglie e marito dentro letto la sera hanno finito da far sesso a un certo punto lui sa guarda gli fa amore ma perché non mi avvisi mai quando stai per aggiungere orgasmo lei su guarda gli fa amore ma che ti devo dire sai che a me non mi vado a disturbarti quando sei al lavoro